Welcome back Gargiuli e benvenuti ad un nuovo video dell'SMT Airsoft. Questo in particolare è la seconda parte della mattinata della giocata della nebbia del 9 dicembre del 2018. Vi lascio il link in descrizione o nella info qui in alto a destra. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessun video e di seguirci anche su Instagram. In questo gameplay tutto il software Pavia si raggruppa per un nuovo game e dovrà eliminare la difesa di due OBJ tramite coordinate e GPS. Il campo del primo OBJ è praticamente poco dopo le macchine ma soprattutto praticabile mentre i problemi arriveranno nel campo dell'OBJ numero 2. Come vedrete poi nella seconda metà del video è praticamente una palude oltre ad avere una vegetazione molto fitta soprattutto di rami e rovi data alla stagione. È stato difficile muoversi al suo interno ma ora vi lascio al gameplay. Polling c'è il suo ragazzi. Miguel 1,2 prova mi sentite? Miguel, Miguel. Oh capo Adamo! Andate l'ok? Luce verde? Sì. Me la sono persa. No, le ho chiesto io la luce verde. Sarà di là. Quindi tre? Sì sì. Prendiamo il ponte? Poi facciamo il giro così. Potti, lì c'è l'uno, OBJ 1. Quindi sinistra. Siamo più a sinistra dai, siamo più larghi, molti più larghi. Contro, contro, contro sulla nostra destra, ingaggio, ingaggiamo. Vai. Scappato. Non inseguitelo, non inseguitelo. Dobbiamo eliminare la contro. In questo punto OBJ 1. Eh, se andiamo addosso all'OBJ 1 facciamo l'1. Softerpavia, attacchiamo OBJ 1, cambio programma. Attacchiamo la Recon e OBJ 1. Attacchiamo OBJ 1, Doc! Sì. Sono davanti a noi, raga, eh. Dai ragazzi, è vostro quello, è vostro quello, dai! Dai! Andiamo in direzione. C'è i due alberi. Andate. Andate a prenderlo. L'albero grosso, dai! Stavo. Stavo. E' ancora là dietro? Andate a prenderlo. E' là. Lei è di piedi. Dai avvicinatevi dai! Avanti, spara. ricarico mi carri carico coprimi coprimi fuori fuori ok preso tango down preso ma mica il fuori mica il fuori purtroppo nel primo bj vengo preso e la stessa sorte è capitata anche per molti di noi per fortuna i pochi compagni rimasti dopo un lungo ingaggio riescono ad eliminare tutta la difesa a questo punto i colpiti ritornano in vita e attraverso un ponticello fatto con delle piccole assi in legno ci dirigiamo verso il secondo bj stiamo andando nel famoso campo paludoso e direi anche odioso io rimango qua nel caso uno cada vi registro ci siamo visto ce n'è uno sia di qua che uno di là bravo sono che non lo vedo viper facciamo il giro facciamo il giro bravo dobbiamo fare il giro di largo ok viper con me viper con me Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di qua è più facile passare. Vai, ingaggia pure, vai. Ok, visti. Dami copertura, Samu. Ok. 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 Ok.